Aspetta Marco, gli schietti giù, Gesù. Andiamo. Iniziamo l'opera, con la versione della guancia. Lancio numero 4. 4 Mi stai lucciando qua. Guarda, metti l'aceto. La versione medica, giusto. Il mix di ingredienti è fondamentale. Ti chiamo Alessandra. Non vede. Che carina. Primo step è stato fatto. Primo step. Bacon soda. Secondo ingrediente. Bravo, bello. Bravo. Bravo. Una sola faccia. Perché c'è da? Sì. Sì. Vai. L'emozione è altissima. L'attenzione si taglia con il contello. Andiamo alla mano. Sì. Commenti sotto voce. Niente. Sì. Sì. Vabbè. 3. Non si capisce. Guardate la delusione. Cosa non è funzionato. Cosa non ha funzionato. Dovevo aspettare di più per far fare la reazione. Forza, forza. Sì. 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 Sì.